Siamo qui per far vedere a tutto il mondo che nonostante tutto questo che siamo all'estero Siamo sempre, sono rimasti sempre cittadini ucraini che ci preoccupiamo del nostro paese Siamo tanto preoccupati, ma non solo preoccupati, veramente vogliamo vedere a tutto il mondo Vogliamo raccontare a tutto il mondo che cosa veramente sta succedendo nel nostro paese Siamo venuti qua per chiedere pace, per stop Putin Abbiamo tanta paura di nostre famiglie che stanno là E ringraziamo l'Italia che sta con noi ucraini Non vogliamo sangue, vogliamo pace Putin è assassino! Putin è assassino! Grazie a tutti. Grazie a tutti.